La musica è la capacità di esprimere attraverso i suoni quanto di più profondo abbiamo nell'anima. La musica è estasi, la musica è poesia e io oggi vi voglio presentare un musicista, un artista, una persona che ha dentro di sé storia, cultura e tanta emozione. Assisteremo alla Ave Maria di Caccini con Gabriel Piergiovanni De Leoni. Grazie a tutti. 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 Benvenuto, benvenuto Gabriel nei nostri studi. Partiamo subito, entriamo nel caldo della nostra intervista. Chi è Gabriel Piergiovanni De Leoni? Io mi sono laureato in conservazione e beni culturali presso la facoltà di lettere e filosofia a Urbino discutendo una tesi di argomento musicologico sulla genesi degli strumenti musicali a corda dall'antichità fino al medioevo. Poi mi sono interessato a studi di musicologia affrontando svariati problemi della musica classica, antica, barocca, soprattutto il periodo romantico, periodo soprattutto napoleonico. Perché studiando Paganini diciamo che il periodo è soprattutto il periodo napoleonico. Ecco, tanti studi, tanta cultura, ma quali sono profondamente le tue passioni? Beh, sicuramente la passione per la musica. Etimologicamente la parola musica noi non sappiamo cosa significa, però abbiamo questa radice mus, mis, che ci ricorda la parola musa. Le muse erano delle divinità. Noi sappiamo che c'era la musa della musica che era Euterpe, la musica della danza era Thalia e quindi la musica era presso gli dèi ed era una prerogativa della divinità. Tutti i culti egiziani, il culto di Ammonerà, Iside, Osiride, Anubi, erano tutti i culti dove la musica aveva un'importanza fondamentale. Basta pensare che anche faraoni come Ramses e Tutmosis si facevano sempre annunciare, capito, dalla musica per esaltare anche la loro potenza. Quindi era un qualcosa di strettamente collegato con la divinità, cosa che oggi un pochettino si è persa perché oggi come oggi queste emozioni si tende un po' a nascondere, si cerca di avere un approccio più razionale, quindi diciamo che il rapporto musica-divinità si è un pochettino perso. Molti strumenti non entrano più nelle celebrazioni, nelle funzioni e questo è un peccato perché si vengono a perdere delle emozioni. C'è un approccio diciamo più razionalistico, più razionale, meno emotivo, meno empatico. Ho capito, ho capito. E come ti sei avvicinato alla scelta del violino e soprattutto alla scuola violinistica paganiniana? Diciamo che io sono partito dal rock negli anni Ottanta, c'erano tanti gruppi, tanti musicisti che si rifacevano con la loro musica strumentale, i loro virtuosismi, si rifacevano a compositori del periodo barocco o comunque romantico. Quindi c'erano chitarristi come Malmsteen, Steve Vai e tanti altri, Jason Becker, Michael Angelo Battio, Joe Stamp, che riproponevano diciamo nelle loro esecuzioni delle parti riprese da questi compositori. che spesso veniva citato anche Paganini, quindi questa cosa mi portò a scoprire diciamo proprio questo musicista in relazione alla musica diciamo strumentale degli anni Ottanta. E mi portò anche col tempo, ma molto più tardi, perché io il violino poi l'ho preso in mano a 45 anni, quindi tardissimo, a sviluppare questa triode strumentale che è un po' quella di Paganini, perché Paganini partì dal mandolino, violino e poi arrivò alla chitarra. Io ho fatto un percorso un po' diverso perché sono partito dalla chitarra, poi ho fatto mandolino e poi sono arrivato al violino. Ma avendo suonato anche in paesi orientali, quindi ho studiato molto anche la musica orientale, tutte le scale modali, ho suonato anche altri strumenti, perché ho suonato anche il busuki, il sitar, quindi anche strumenti molto diversi diciamo, proprio perché la musica orientale ha tutto questo studio sulle scale modali, Ionian, Dorian, Frigian, Lydian, Mixolydian, Eolian, Locrian, che nella nostra civiltà occidentale non è passato o è passato molto di meno. Quindi a livello strumentale diciamo ci sono degli ingranaggi diversi, capito? È una musica dove si lavora molto sul semitono, però comunque molto bella. Io ho apprezzato molto la musica orientale, mi ha dato molto anche personalmente a livello strumentale, ho trovato grande giovento. Poi ho iniziato col violino, come dicevo tardissimo, 45 anni qui a Pesaro e mi dicevano tutti di smettere perché dici, ma è un'età che non si comincia il violino a 45 anni, è tardi, mi dicevano ma il polso non si scioglie, ci vogliono le mani piccole e quindi mi consigliavano di smettere. Poi mi sono ritrovato nel nord Italia a seguire un concorso per violinisti e sono venuto in contatto con l'ipote di Niccolò Paganini di terza generazione, si chiamava Emanuele Paganini. Diciamo che è stato un percorso lungo perché per poter entrare poi in questa scuola, che è una scuola esoterica nel senso che siamo pochissimi, quindi più che una scuola è una corrente perché sono pochissime persone, mi ci sono voluti tre anni. Tre anni per dimostrare anche la mia fedeltà a questo artista e soprattutto ho stretto una grande amicizia con lui che è stato per me un padre artistico, nel senso che abbiamo trascorso tanto tempo insieme, andavamo a teatro insieme, io lo aiutavo perché lui faceva fatica a camminare, non lo so, mi sembrava proprio un padre, ma forse era lui che sorreggeva me. È stato un sorreggersi a vicenda secondo me. Sì, è stato un sorreggersi a vicenda. E poi lui mi ha introdotto dopo tre anni questa scuola, io ho iniziato nel 2009 a prendere lezioni questa scuola e noi ci trovavamo veramente nei posti più insoliti, facevamo lezioni anche nei sottoscala degli alberghi. Era veramente un qualcosa di fuori dal comune. Fortemente voluto. Completamente nascosti, completamente, veramente. Ed erano lezioni a periodi, cioè non erano delle lezioni continuative, erano dei momenti, magari potevi prendere dieci lezioni, poi c'era un periodo di pausa, poi magari io andavo da un'altra parte, facevo altre venti lezioni, diciamo era un po' uno studio, diciamo così, a pezzi. Come poi è successo anche ad alcuni allievi di Paganini, come Camillo Sivori, che studiava quando lui era presente a Genova. E Paganini sappiamo che era sempre in tournée, non era sempre fermo lì, quindi poteva dare lezioni soltanto quando si trovava lì, effettivamente. Nel 2012 è morto, Emanuele Paganini è morto, io mi ricorderò sempre che lui è morto ascoltando Schumann, perché lui era un pianista prima di tutto. E questo a me appariva strano, perché io andavo col violino, volevo apprendere questa tecnica, diciamo, queste impostazioni virtuosistiche, perché è proprio diversa l'impostazione. E lui mi suonava col pianoforte, mi faceva sentire le cose al piano, quindi mi sono dovuto un po' riabituare ad ascoltare certe cose, perché per me il pianoforte non era, avendo sempre suonato strumenti a corda, capito, non era uno strumento familiare, diciamo, ecco questo. E poi dopo la sua morte è stata una grossa perdita per me, perché come aver perso veramente un padre, c'era fra di noi un rapporto molto, proprio di figliazione, molto intimo, molto stretto. Ho capito. Così. Ascolta Gabriel, quali sono le caratteristiche, in breve, della tecnica di Niccolò Paganini? Per prima cosa l'iperaccordatura, perché Paganini per spiccare come solista sull'orchestra doveva iperaccordarsi, quindi lui si accordava mezzo tono, anche un tono sopra l'orchestra. Oggi le orchestre sono tutte accordate molto alte, con il La 440, 42, allora invece il La era molto più basso, quindi anche le opere di Russini andrebbero eseguite con un La più basso e diciamo che non c'erano le corde in acciaio come adesso, erano le corde di Budello, quindi tutto aveva un carattere più morbido, più delicato, più soffuso. Lui si accordava più alto, arrivando diciamo alla sonorità, qual è quella che usiamo oggi, con il La che usiamo oggi, proprio per spiccare sull'orchestra. Ma aveva delle caratteristiche particolari perché fin da piccolo aveva allungato la tastiera del violino. Paganini, voglio dire, lavorava più sulla parte alta della tastiera che sulla parte bassa, perché a lui piaceva questo salire e scendere in continuazione, cioè aveva un modo anche di comporre dove ci sono salite e discese, sembra di vedere il profilo diciamo dei monti, lui lavorava spessissimo così, non aveva problemi a smanicare, la sua mano aveva un'estensione tale, un'elasticità tale che gli permetteva di poter suonare contemporaneamente in più posizioni senza smanicare. Questo che oggi non succede più perché noi oggi non studiamo più come allargare diciamo la mano. Questo studio capito sulla mano che lui fece anche proprio dalla più tenera età, oggi i musicisti non lo fanno più. Si tende a dire che Paganini aveva il malvo di Marfan, questa malattia per cui abbiamo una mano arachnodattile con queste dita che dovrebbero arrivare dappertutto, ma io questi malati di Marfan non li ho mai visti suonare con un violino, anche perché queste dita che hanno loro, molte volte sono storte, sono troppo lunghe, quindi non sono adatte diciamo a uno strumento di precisione come il violino, mentre invece Niccolò Paganini aveva sì, diciamo una mano grande ma una mano regolare e lui si era proprio sforzato fin dalla più tenera età di allargare lo spazio fra le dita con esercizi anche muti particolari, come può essere per esempio una cosa di questo tipo dove incrociando le due dita centrali poi le altre vengono portate fino alla spaccata, ma ce ne sono tantissimi di questi esercizi e questi che devono dare l'elasticità alla mano del musicista, non pensare che Paganini aveva questa malattia che gli permetteva di fare cose incredibili perché una malattia è sempre handicappante, non può essere presa a pregio di iper funzionalità, quindi secondo me questa teoria del morbo di Marfa non è giusta, proprio perché dall'immagine che abbiamo di Paganini non risulta una mano di questo tipo, risulta anche da quelli che lo visitarono, dal dottor Bennati che ha tutto un resoconto sulla mano di Paganini, dice sì, è una mano che lui riesce ad estendere a piacimento, ma non è una mano anomala, cioè normalmente è una mano normale, poi quando va sullo strumento, ho capito, è in grado di prendere anche quattro là, i famosi quattro là contemporaneamente, quindi di abbracciare molte posizioni, poi dopo tutta la tecnica dei colpi d'arco picchettati, saltellati, balzellati, gli armonici, armonici semplici, armonici doppi, l'uso della polifonia, delle corde doppie, le imitazioni, il suonare parlante, il cromatismo, diciamo che per ognuna di queste cose ci vorrebbe, ci sarebbe da parlare per delle ore, perché scendere nelle particolari di ognuna di queste cose, però ecco la caratteristica fondamentale è che mentre tutti i violinisti del tempo avevano paura a salire sulle posizioni alte, non riuscivano molte volte, Paganini invece lui si era abituato a tenere la mano sempre in posizione molto alta e questo lo favoriva per raggiungere sicuramente delle note che altri musicisti non raggiungevano, ecco questo. Ecco tu Gabriele, Gabriele hai fatto degli studi personali, degli approfondimenti, proprio per riportare metodo e tecnica originali, no? Alle origini. Sì, sì, sì. Io ho fatto degli studi iconografici, sono partito diciamo da tutta l'iconografia relativa a Paganini, proprio per ricostruire questa posizione che lui aveva, perché nel tempo questa posizione diciamo si è persa, oggi come oggi siamo in due a utilizzarla. possiamo vedere che Paganini aveva questa posizione con il violino che tendeva ad essere non parallelo diciamo al piano del pavimento ma in perpendicolare, perché non aveva né mentoniera né spalliera, cioè questo tipo di violino paganiniano è un violino che non prevede l'utilizzo né della mentoniera né della spalliera. Sono due elementi che oggi ci permettono di tenere il violino con il collo. Certo. Ma il violino come fu pensato originariamente era chiamato violino da braccio, violino viola da braccio, cosa voleva dire? Che doveva essere tenuto dal braccio e non dal collo, perché poi il collo non è un organo prendente, cioè io devo prendere qualcosa e la prendo con le mani, non la prendo con il collo. Questo tenere oggi il violino con il collo porta a un irrigidimento, un blocco totale diciamo di tutto il corpo, perché mi ritrovo a tenere una cosa bloccata qua, quando invece nell'ottocento, nel seicento questo violino veniva semplicemente appoggiato e tenuto dalla mano. Questa è una cosa comunque difficile perché noi dobbiamo capire che potersi muovere su un violino senza mentoniere, senza spalliera, presuppone un lavoro della muscolatura molto particolare. Infatti Paganini appoggiava per esempio questo gomito sullo stomaco, aveva anche l'altro gomito molto chiuso, questa posizione, oggi invece è completamente diverso, la posizione delle braccia è molto aperta, è molto più rigida, mentre invece questa è una posizione di riposo, questa posizione dove si scarica tutto il peso su diciamo una gamba, cioè questa colonna dalla parte diciamo sinistra, ci consente una posizione diciamo di riposo, mentre invece oggi la posizione è molto bloccata, è una posizione come dire in guardia. Molto rigida, molto impostata. Molto rigida, molto rigida e lo vediamo nelle stampe dell'epoca che Paganini aveva sempre questa posizione diciamo con il violino verso il basso, qui per esempio questa è originale, ci fa vedere come per esempio nel rondo della campanella c'era una persona che suonava i campanelli e Paganini con il violino imitava il suono dei campanelli, era una cosa veramente sì, perché lui faceva molte imitazioni e il rondo del campanello si chiama proprio così perché imita diciamo un campanello e qui vediamo che Paganini era figurato su una corda sola perché un'altra delle caratteristiche del suo modo di suonare della sua tecnica era quella di poter suonare anche su una sola corda, il pubblico pensava che queste corde saltavano quindi rimanevano sbalorditi perché pensavano ma adesso è saltata una corda dovrà fermarsi invece no, invece Paganini non si fermava mai, arrivava fino all'ultima corda e continuava a suonare con una corda sola quindi il pubblico rimaneva veramente stereofatto ma questa cosa Paganini era una cosa preparata perché se noi guardiamo le locandine del tempo lui annunciava già dalla locandina che avrebbe eseguito su un'unica corda, sulla quarta quindi indicava già a priori che ci sarebbe stato un brano che lui avrebbe eseguito solo sulla quarta corda e questo perché? Perché lui aveva un dispositivo sull'arco che gli permetteva di tagliarle, di farle saltare queste corde non saltavano perché alcuni pensavano male montava consumate oppure il pubblico pensava che saltavano così le faceva saltare? Lui le faceva saltare, aveva un dispositivo in base al quale capito queste corde poi essendo di budello era molto più facile farle saltare ma si possono far saltare che corde come quelle di oggi quindi era una cosa che non capitava accidentalmente ma era voluta era voluta, per esempio questo concerto qui del 1834 a Blomsbury questa è una locandina originale del 1834 vediamo che lui presenta questa gran viola, è uno strumento che aveva inventato lui, era una viola particolare a cinque corde quindi Paganini annuncia che suonerà, eseguirà una suonata proprio per questo strumento nuovo inventato da lui questa gran viola ed è importante anche notare che dopo il concerto il re minore, questo per violino viene eseguito all'ouvertura il barbiere di Rossini e anche un duetto dei capricci di Rossini ecco, ci vogliamo allacciare anche al racconto magari di qualche aneddoto tra Rossini e Paganini sì, Rossini e Paganini erano due grandi amici Paganini è nato nel 1782 e Rossini nel 1792 c'erano dieci anni di differenza anche se poi Paganini morì nel 1840 e Rossini nel 1868 quindi campò di più però si incontrarono e strinsero una bellissima amicizia per esempio noi abbiamo testimonianze del carnevale romano del 1821 andava in scena la Matilde di Sciabran di Rossini noi sappiamo che durante la composizione i due musicisti erano vicinissimi, erano insieme Paganini prendeva questi fogli già scritti di fresco e cominciava a eseguire variazioni come era il suo solito è successo che quando quest'opera doveva andare in scena al Teatro Apollo di Roma il direttore d'orchestra morì proprio prima della rappresentazione allora Rossini chiamò Paganini a dirigere l'orchestra Paganini sapeva dirigere l'orchestra perché aveva avuto esperienze di direzione orchestrale a Lucca a corte di Elisa Bacciocchi quindi si assunse questo ruolo e quest'opera andò in scena proprio prima del carnevale romano subito dopo la realizzazione di quest'opera i due musicisti cominciarono a chiedersi ma cosa facciamo per il carnevale cosa si fa cosa non si fa si decise di travestirsi da ciechi e si misero perché i ciechi chiedevano l'elemosina cantando e si misero giù quattro versacci siamo ciechi dobbiamo vivere di cortesia in giornata di festa non si nega carità questi versi furono musicati da Rossini e poi decisero di vestirsi al di sotto molto eleganti e al di sopra con degli stracci poveri quindi diciamo una povertà diciamo apparente ecco e decisero di vestirsi da donna si vestirono entrambi da donna e poi sopra con tutti questi stracci Rossini sembrava ancora più più abbondante di quello che era Paganini invece era molto magro sembrava proprio sgruppato il doppio e cominciarono a improvvisare andare Rossini suonava la chitarra e Paganini accompagnava col violino ma anche Rossini era capace di suonare il violino noi sappiamo che anche Rossini oltre ad essere chitarrista sapeva anche suonare bene il violino e fecero furore perché andarono alle feste così conciati ma con la loro bravura fecero furore abbiamo anche testimonianze dell'amicizia di Rossini con l'allievo di Paganini Camillo Sivori come abbiamo convenuto ieri sera dal gran Rossini quindi Camillo Sivori frequentava a Parigi Giochino Rossini e sappiamo che Rossini gli chiese di eseguirgli alcune composizioni che Paganini gli aveva dedicato quando lui era studente erano dei brani molto semplici ma questa semplicità piaceva molto a Rossini e Rossini chiamò Camillo Sivori a eseguirgli questi brani e gli diede 50 centesimi e gli disse ritieniti fortunato perché io di solito do 20 centesimi a tutti quegli artisti che vengono a suonare per me a te ho dato molto di più e c'è un grosso collegamento anche di Rossini che con la nostra scuola perché era proprio interessato ho capito ad ascoltare queste composizioni che Paganini aveva dedicato diciamo al suo allievo prediletto anche se Paganini poi gli allievi ne ebbe sicuramente degli altri in giro per l'Europa lasciò anche ad Apollinaire de Konsky Artur Saint Leon ad altri artisti magari delle parti del suo metodo non tutto perché il metodo era sicuramente molto complesso però già questi artisti con poco come il violoncellista Candelli c'è questo aneddoto di questo violoncellista che aveva dei grossi problemi con la mano con l'intonazione Paganini disse io gli rivelai il mio segreto e dopo tre giorni questo violoncellista già suonava perfetto non aveva più problemi di intonazione non aveva più infatti Paganini disse che con il suo metodo un allievo in tre anni Paganini poteva raggiungere quello che si faceva in dieci caspita proprio perché Paganini si era accorto che il metodo di insegnamento già allora era troppo lungo metodo per posizioni prima, seconda, terza come anche oggi Paganini no lui le saltava queste posizioni lui faceva mettere la mano a metà del manico e da lì uno doveva raggiungere tutto tutto non c'era bisogno di spostarsi per posizioni dovevi un po' quello che succede anche nella chitarra ecco Gabriel volevo chiederti la tua carriera la tua esperienza i tuoi studi non sono nati con il violino sono partiti con la chitarra la chitarra elettrica no? si questa ecco qui questa è la tua chitarra elettrica si diciamo una delle mie ne ho diverse si quindi sei maestro insegnante si diciamo io ho dato tante lezioni ho fatto ho lavorato alle fiere ho fatto clinics tantissime cose con la chitarra elettrica perché è il mio strumento con il quale diciamo ho iniziato diciamo tutto è partito da qui sicuramente poi avendo la mano abbastanza grande ero diciamo favorito sulla chitarra come dicevo prima le cose che sono state sono state trasposte sulla chitarra elettrica negli anni 80 venivano molto diciamo dal anche dalla tecnica violinistica c'è gli arpeggi queste cose capito in sweep con delle tecniche moderne però che riprendono le tecniche violinistiche e allora anche anche le scale su le scale in velocità su una corda sola sono cose che Paganini faceva sulla sua corda diciamo sola che sono passate qua diciamo ci sono tantissime cose che sono passate qui per esempio anche l'uso del manico scaloppato no? dove fra ogni tasto diciamo il legno viene scavato quindi tu quando suoni non tocchi mai diciamo il legno sottostante ma lavori solo sulla corda e questo ti dà la possibilità di suonare anche con micro micro vibrazioni cioè non hai più bisogno di alzare riabbassare ma puoi scorrere con la mano senza senza bisogno con piccolissimi movimenti senza bisogno di alzare rilasciare tutte queste cose che fanno perdere tempo perché per la velocità noi sappiamo che più si sta a contatto diciamo con la corda e più si è veloci anche no? perché la tecnica strumentale include un grosso lavoro diciamo sulla velocità quindi per me capito il il discorso violino chitarra è complementare cioè andrebbe andrebbe imparata forse prima la chitarra e poi il violino perché anche questo discorso dei salti delle smanicature è una cosa che nella chitarra si impara subito invece nel violino non si impara mai perché posizioni 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 ma salti salti esagerati fra posizioni sono molto più rare mentre invece nella chitarra questo passaggio di velocità è diciamo anche più agevole perché la mano in una posizione che è più comoda rispetto a quella del violino sicuramente bene Gabriel hai tenuto concerti si sei insegnante si fai delle lezioni si e hai tenuto anche diverse conferenze ecco brevemente qual è il tuo repertorio le cose più importanti salienti ma sicuramente diciamo la musica barocca la musica romantica ma anche tutta la musica strumentale degli anni 80-90 di chitaristi che ho citato sicuramente poi ho fatto conferenze sempre sull'amicizia Rossini Paganini su Paganini aspetti particolari diciamo sempre della sua tecnica quindi conferenze di tipo musicologico ecco di questo tipo qua io penso ci sia un legame molto forte tra la musica e il suo potere terapeutico cosa ne pensi Gabriel? diciamo che questo modo di eseguire empatico è completamente diverso dal modo di eseguire acribico perché l'acribia quello che si cerca oggi è di suonare tutto con la perfetta intonazione ma poche emozioni quando si va ai concorsi per violino ci sono dei ragazzini prodigio che riescono a suonare tutto perfettamente intonato ma le emozioni non passano certo e tante volte mi si avvicinano delle persone e mi dicono ma noi italiani italiani suoniamo con più passionalità con più passione a me diciamo fra i tre tipi di esecuzione quella acribica virtuosistica solo di velocità e empatica preferisco l'empatica perché l'esecuzione empatica esprime porta alla luce degli archetipi spirituali che sono nascosti all'interno della nostra persona e della nostra coscienza e questi archetipi spirituali sono delle zone oscure misteriose della nostra coscienza che questo tipo di esecuzione riporta alla luce e che la coscienza sente come come sue come suoi quindi diciamo questa consonanza dà alla nostra anima una percezione sublime che la rapisce dona euforia e secondo me può guarire tante ferite che abbiamo dentro di noi in maniera diciamo magica magica sì l'esecuzione empatica è molto diverso diciamo dagli altri tipi di esecuzione purtroppo oggi il discorso delle emozioni si tende a lasciarlo da parte si cerca si ha paura delle emozioni si teme a volte si cerca di rimuoverle di dire ma con la mia razionalità faccio faccio un muro faccio una barriera e queste emozioni mi danno fastidio le faccio morire invece con la musica si abbatte quel muro si abbatte quel muro e ci si scioglie è certo il maestro Gabriel Pier Giovanni De Leoni tiene lezioni private si esegue concerti è veramente un valore aggiunto per la nostra società se ti volessero cercare se qualcuno avesse bisogno di te se qualcuno volesse imparare da te o ti chiedesse semplicemente ecco di eseguire qualcosa come possono mettersi in contatto? è tramite la mia mail cli.gabriele.piergiovanni chiocciola gmail.com benissimo e adesso io direi di chiudere la nostra bellissima intervista ascoltando un brano cosa ascoltiamo Gabriel? il larghetto di Paganini in do maggiore estrapolato dal centone di sonate ecco vi lasciamo con una buonissima musica grazie per averci seguiti grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti